Mi impegnerò come ho sempre fatto, dal primo all'ultimo minuto, sudando e onorando una maglia che mi ha dato tanto e che sono orgoglioso di portare. Così Luca Tremolada spazza via i cattivi pensieri che cominciavano ad annidarsi nelle menti di chi sospettava un suo disinteresse verso le sorti della squadra dopo la notizia del suo addio a fine stagione. Il fantasista Amaranto non ha resistito a quella tentazione che per lui porta il nome di Serie B e da giugno non sarà più alle dipendenze di mister Capuano. Lui è un ragazzo eccezionale, è un giudatore forte a cui io auguro il meglio. È normale che avrei avuto piacere che questo ragazzo continuasse per molti anni qui ad Arezzo, però le decisioni vanno rispettate, punto. Pensando già a chi potrà sostituire Tremolada nel prossimo campionato, ecco che spunta fuori il nome di Federico Varano. Per me è il giocatore che può sicuramente sostituire Luca perché ha le qualità, è molto similare, è un giocatore di estro e gli somiglia anche moltissimo con la testa. Sabato si torna in campo e l'Arezzo ospita il Teramo, formazione che il tecnico Amaranto definisce così. È una squadra faraonica, allenata benissimo, ma non è che lo dico adesso. Il Teramo è la squadra più forte in assoluto. Ecco, se ci dovesse essere una squadra che con la schiettezza che mi contraddistingue non ha ottenuto o non ha fatto quello che è il suo potenziale umano, è il Teramo. Con la salvezza ancora da conquistare, solo matematicamente ma già largamente ipotecata, Capuano ribadisce l'obiettivo. I playoff, lasciamo stare questa parola, siamo contenti se qualcuno magari, poi l'entusiasmo dei risultati, delle prestazioni. Io sarei un ipocrita se non dicessi in questo momento che il mio sogno sarebbe rimanere nelle prime otto e poter dire per il secondo anno consecutivo di aver fatto un risultato importante l'accesso in Coppa Italia Team. E' un risultato importante l'accesso in Coppa Italia Team. E' un risultato importante l'accesso in Coppa Italia Team.